Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina con le licenze segreti d'Italia. Oggi prepareremo i cupcakes di colore con il frosting nutella e panna e all'interno dei cupcakes metteremo la nutella. Siamo pronti per procedere? Io vi dirò tutti gli ingredienti. Avremo bisogno di 230 grammi di farina manitoba o farina 00. 50 grammi di cacao dolce o amaro in base alle vostre preferenze, 150 ml di latte a temperatura ambiente, 4 uova intere, 220 grammi di burro a temperatura ambiente, una bustina di lievito per dolci e i nostri pirottini per metterci i cupcake. dei nostri cupcake. Inoltre possiamo iniziare. Io ho preparato il mio famoso crustino. Vediamo se funziona. Funziona. E la nostra amata nutella. Questo lo utilizzeremo per fare il riempimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.